Giovanni Mancini, grande giornata per te, per Torre dei Passeri, il nuovo sindaco del comune. Una tornata elettorale difficilissima, ma risultati storici. È una grande giornata per i torresi, loro mi hanno votato in massa, ci hanno votato in massa. Sono molto contento, ho avuto, sempre sono stato convinto di avere una squadra straordinaria al mio fianco. I torresi hanno scelto, questa volta hanno scelto noi in maniera piena. Ne siamo convinti, io li ringrazio e ovviamente saluto anche tutti gli avversari, è stata una bella lotta. Ovviamente adesso tocca a noi e da domani al lavoro. Grazie. Come abbiamo detto, numeri che parlano chiaro, adesso ci sarà da mettersi in moto. Qual è il primo obiettivo da raggiungere per Torre dei Passeri e per il nuovo sindaco Mancini? Il primo obiettivo sarà abbracciare la gente, ringraziarli e da domani andrò in comune, anzi tra qualche ora andrò in comune. Da domani al lavoro, giovedì riapriranno le scuole e poi via via tutto quello che abbiamo detto dobbiamo eseguire. Quando è stata complicata la campagna elettorale? Vi abbiamo visto anche scontrarvi, però poi come gli elettori hanno dato il loro voto è stato anche netto. È stata una battaglia che se ne ricorderà per tanti anni. Noi l'abbiamo fatta in maniera onesta, pulita, con una squadra consapevole di quello che voleva fare. Oggi è il risultato di quel lavoro fatto e io ne vado orgoglioso e sono molto molto contento insieme a tutti i torresi. Per chiudere, Mancini parlerà anche con le opposizioni o sarà un sindaco che andrà dritto con i suoi numeri e con la sua squadra? L'ho detto nel mio ultimo comizio, vinca il migliore e chi vinca deve lavorare per far splendere Torre dei Passeri, quindi la mia porta sarà aperta a tutti i torresi e ovviamente anche all'opposizione.